E però dai, cioè onestamente, io coi bene che ti vuoi, però andiamo, così è fin troppo facile, io non mi sento motivato in questo modo qui, cioè se non mi ci devo sprecare neanche un pochino io me ne tiro fuori, o mi garba, mi tiro indietro, e va arzata via st'inquadratura dai basso, poi io mori. Tabellone aggiornato, lunedì 17 luglio, ore 17, non veniamo fuori che non ci ho messo quelli che sono stati ufficializzati dopo, bada quanti gialli c'è, ma proprio tanti. Ragazzi, ma quest'anno si viaggia a una velocità di mercato, che roba da chiodi. Bologna, il colpo di mercato assoluto è stato quello di Dobrice, ora non stiamo qui a sindacalizzare su che ruolo lo metti, alla piccola guardia, alla grande, titolare, riserva, è ancora una squadra in divenire, nonostante ipoteticamente mancherebbe secondo me un solo giocatore, e nonostante non dovrebbe essere un playmaker, ma vaglielo a spiegare a Scariolo che ne vuole 15 di solito di playmaker in squadra, però questo è un bel giocatore, onestamente, a parte tutto. Ci sono dei dubbi su Schenghelia, cioè non dei dubbi su Schenghelia, che come giocatore varrebbe la conferma e Bologna lo vorrebbe confermare, però ci sono delle sirene a suon di dollari che potrebbero arrivare dall'estero, e poi bisogna piazzare i Felumberg nel tentativo di arrivare a Smith o a Colby Ross. Io adoro Colby Ross, però, ripeto, 15 playmaker, no, sono troppi, basta, ecco, idea mia, però, insomma. Ah, Kahoc, sottolineato, perché sarà il primo focus nuovi volti di questo video. Varese, è arrivato Scott Ulaneo, ora che stia qui o che stia qui, da titolare o da riserva, poco cambia, perché già ha giocato nel nostro campionato, però in realtà faceva in modello, in campo non ci mise piede a Brindisi, quindi di quell'esperienza lì fondamentalmente non possiamo parlare. L'idea sarebbe quella di confermare Markel Brown. Pare, pare, che potrebbero arrivare conferme o smentite entro i 20 di luglio, siccome oggi è i 17, settimana prossima, secondo me, qui c'è Markel Brown, oppure lo togliamo anche da qui, per forza. Milano, dopo i botti di inizio estate, soltanto Bortolani, che comunque buttalo via, ragazzi, fa sempre impressione sta cosa, ma questo quintetto, Caruso Ricci Bortolani Tonut Hall, nel nostro campionato, dice la sua, cioè compete per delle posizioni importanti, è il terzo quintetto, no, per capirsi. Bisognerà capire anche chi sarà il Playmaker. Lo dovrebbe essere il nome buono, non mi dispiace neanche, però una coppia di Playmaker, lo Pangos, secondo me è un grosso problema, enorme problema, anche se poi dovesse arrivare Flaccadori. Quindi vediamo, aspettiamo, cerchiamo di capirci qualche cosa. Questo qui, lo vedete questo nome qui, quest'ultimo nome qui, lo vedete? Ecco, se arriva questo, questa squadra qui assume completamente un altro spessore, perché questo con il nostro campionato non c'entra proprio niente, niente. Se poi ci aggiungi Hamagate, figuriamoci, Miroticcia è andato. Reggio Emilia, a sorpresa, direi, è arrivato Dario Natkins, nel senso che non se n'era parlato praticamente per niente, come anche Diuglietti, però a me sta squadra mi garba. Cioè, questi sono quattro giocatori, i nuovi, Atkins, Smith, secondo Focus, nuovi volti di questo video, Killoglietti, Harvey, che, che, cioè, è gente che mi garba. Io non voglio di niente, perché l'anno scorso poi tutte le aspettative sono state deluse, quindi aspettiamo. Però mi sembra una squadra con pochi fronzoli, nomi che non è che ti fanno sartare dalla sedia, però tutta gente affidabile. Qui ci potrebbe stare Olisevicius. Io ci metterei qui anche Cicerini, però Cicerini pare non se ne faccia di nulla. Pesaro, Quincy Ford, ma soprattutto Scott Bamford. Allora, io Bamford lo adoravo ai tempi della Dinamo, fu tagliato, non fu rinnovato perché c'erano dei dubbi sulla tenuta fisica dopo l'infortunio, nel frattempo sono passate delle stagioni. Questo, ragazzi, è un giocatore clamoroso. Bamford McCallum, sono due giocatori impressionanti, o a livello offensivo sto parlando. Forse troppo, considerato anche Ford, per la pallacanestro di Buscaglia. Non vorrei che Buscaglia facesse lo stesso errore di Napoli dell'anno scorso. Cioè, una squadra con l'artiglieria pesante a livello offensivo, che però è poco buscagliana, eh, come squadra. Non lo so, è troppo presto. Aspettiamo, mancano due nomi importanti, poi se ne ragiona. Tortona! È arrivata finalmente la firma di Wims. È arrivato anche Obashohan. Pochi, forse, se lo ricorderanno, ma è già stato in Italia, ai tempi, con Avellino. Per cui questa è una squadra, di fatto, di tutti e soli giocatori con grande esperienza nel nostro campionato. E questa è una cosa interessante. Probabilmente qui ci sarà Radosevic. La gente l'ha confermato, ma l'annuncio ancora non è arrivato. Bisognerà vedere chi ci sarà qui. Venezia! Allora, Ian Elidze, beh, boh, insomma. Vabbè, però c'è talmente tanto atletismo, tanto talento, tanti chili, tanto spessore nel reparto dei lunghi, che ci sta, lo accetto, mi va bene. Rajon Taker. Io adoro Rajon Taker. L'avrei voluto mettere nel focus nuovi volti di questo video, ma siccome è bello e fatto Haboglo di Venezia, poi se no attaccavano a dimmi, ma due della Reier, ma allora, ma qui, ma là? Quindi aspettiamo. Però questo giocatore qui, questo giocatore qui, questo, Sassari! Questa, sulla carta, potrebbe essere la prima squadra completata nel nostro campionato. Allora, per me l'uomo chiave era la Bopoulos, nel senso che non è proprio un 3 neanche lui, però di tutto il roster è quello che assomiglia di più a un 3, oltre al raspino, e quindi già per questo sarebbe fondamentale. In più, una squadra strutturata così, con undicesimo e dodicesimo raspino pisano, quindi senza un lungo, diciamo, escluso il pacchetto dei quattro, Ara Labopoulos è il giocatore che può giocare anche dal lungo, può fare tranquillamente i quattro nel nostro campionato. Quindi è il giocatore chiave. Non il più forte, non il principale terminale offensivo, però il giocatore chiave. È arrivato anche Tairi, anche di lui parleremo, però stesso discorso per Venezia, siccome avevo bello e fatto Wittaker, e se no poi mi dicevate troppi giocatori della Dinamo. Per cui, focus nuovi volti ci saranno per la Dinamo, io vorrei fare sia lui che Gombo, ho capito che si legge Gombo, però se tutto rimane così, quindi se non viene aggiunto nessuno, cosa possibile, probabile a questo punto, della Dinamo parliamo solo nel focus nuovi volti da ora in poi, e non ci sarà più, diciamo, il punto del tabellone, perché non c'è nient'altro da dire. Poi chiaramente le live. Già domani, se volete, qui si fa un po' il punto sulla squadra, perché qui sa tanto materiale. Napoli. È arrivata la firma di Jaworski. Sì, questi sono i nomi che si fanno per i lunghi, fondamentalmente ora qui manca il play e i lunghi per completare quantomeno il quintetto. Mi sembra una squadra, anche questa, con pochi fronzoli. Io quest'anno sto avendo tante parole buone per tante squadre. O mi sono raddolcito con l'anzianità, con la vecchiaia, o se no gli staff tecnici stanno lavorando di molto bene a questo giro, in quest'estate. Trento. Niente. Non si è mosso niente. Non è successo niente. Quindi non è che c'è da dire troppe cose. Era stato fatto un timido accostamento con Michele Ruzier. Sarebbe forse un po' un azzardo Ruzier-Forrai, quindi una coppia di playmaker diciamo senza lo statunitense con 20 punti nelle mani. Però è anche vero che nelle ultime stagioni è stata prima Flaccadori-Forrai, poi Flaccadori-Spagnolo-Forrai, quindi diciamo si proseguirebbe in questa direzione. E qui ci vogliano tre americani di spessore. Vediamo chi dovessero essere. Scafati. Jack Nunge. È un Nunge. Sai che non ho idea. È un bel giocatore, però è una bella scommessa per il nostro campionato. È un rookie, ovviamente. Pochissima esperienza, però ha un bel fisico, movimenti interessanti. ci si può lavorare sopra. Dandolo in pasto a Sacripanti, secondo me, ci può venire fuori qualche cosa di interessante. Fino all'ultimo era un candidato per i Fox nuovi volti di questo video. sicuramente lo sarà in uno dei prossimi. Belle scommesse, lui e Rivers. Brescia. Non è stato risolto il caso, John Petrucelli. Io qui ce l'ho scritto, perché in realtà i termini per uscire dal contratto sarebbero scaduti e quindi dovrebbe essere confermato. Però sono tutti condizionali, perché conferma ufficiale dalla squadra non è arrivata e invece è arrivata quella di Massimburg oltre a Cuono, che per carità John non toglie che può rimanere anche Petrucelli oltre Massimburg. Io qui addirittura l'avrei messo proprio perché può essere titolare, può giostrarsi in questi due ruoli come gli pare. Però ecco, conferma non è arrivata. Se la squadra dovesse essere questa, quindi con Petrucelli, io qui Andrea Cinciarini ce lo vedrei dun bene. Ma dun bene. Ma dun bene che sicuramente non lo firmeranno. Brindisi Wendell Mitchell Allora, è un buon giocatore. Partiamo da qui. Il problema è che secondo me è più guardia che play per certi aspetti. Questo non sarebbe un grossissimo problema perché Morris potrebbe fare i tre Mitchell la guardia e arrivare a un play. Però vediamo come si muove. Io qui ad Alessandro Gentile ce l'ho scritto perché a inizio mercato è stato accostato. Però sinceramente a questo punto lo vedo improbabile. come cosa. Uno di loro due sarà un prossimo Focus Nuovi Volti. Treviso Gora Camara e Kai Bowman Allora, io ho delle evidenti problematiche psicologiche perché io addirittura Camara lo vorrei vedere titolare figurati te. Non lo sarà va bene partirà probabilmente dalla panchina. Poco cambia. Kai Bowman e Vitucci si conoscano no bene di più tant'è vero che potrebbe arrivare anche di Angelo Harrison e ti dirò conoscendo Vitucci non è neanche escluso che partano Bowman e Fagian con Harrison a cambiare entrambi dalla panchina a svoltare le pare. Mi calberebbe molto sinceramente a me come soluzione. Vediamo. Pistoia è arrivato Peyton Willis non è tremendo forse si poteva anche fare qualche cosa di più però è uno di quei giocatori che se si costruisse una anche abbastanza lunga carriera italiana io sarei per niente sorpreso non so se l'arrivo di Willis preclude la conferma di Varnado che per me sarebbe molto importante per questa Pistoia per come è stata impostata però per il momento c'è Willis lui e Ogbeide intanto sono due tasselli solidi senza troppi poi vediamo Cremona è cambiato un po' di roba non c'è più Mobio è cambiato un po' di roba in realtà però è cambiata in bene perché queste conferme qui da piccoli lazy e soprattutto pecchia qualcuno direbbe soprattutto lazy no io dico soprattutto pecchia per quel che riguarda il nostro campionato per l'esperienza ormai che c'ha per il giocatore che è per quello che rappresenta questa è una firma fondamentale è una coppia di quattri ipotetici tali Zanotti e Bois a prescindere da chi parte titolare poi Zanotti può fare 5 può fare 3 può fare che gli pare mi garba ragazzi 3 italiani Zanotti pecchi e Bois non sono da neopromossa questo va detto e poi focus nuovi volti io sto cercando l'idea sarebbe quella di fare un giocatore nuovo del campionato italiano per ogni squadra prima di cominciare a fare magari due per una squadra tre per una squadra il problema è che ci sono squadre che mi remano contro tipo Tortona dove se te non hai giocato mai in Italia neanche una volta nemmeno per sbaglio non ti pigliano neanche in considerazione proprio tra gli acquisti possibili quindi non lo so diciamo i buoni propositi ci sono poi li li fallirò completamente come sempre come quando dico e non devo fare le introduzioni polemiche uguali Devonte Kahoc alla centro classe 1996 26 anni nativo di Riverdale 201 cm per 109 kg non è stato scelto al draft NBA del 2019 l'ultimo anno al college 15 punti e 12 rimbalzi di media partita in 29 minuti col 59 dal campo poi l'NBA con qualche apparizione tra l'Akers e Spurs e la G League l'anno scorso 20 e 10 in 31 minuti con Parison c'ha la struttura fisica di Brian Dunston anche proprio l'architrave di spalle ecco il tipo di giocatore lì 10 cm in più e era un lungo NBA tanto lui quanto Brian Dunston tra parentesi in attacco forse c'ha anche qualche costina in più rispetto a Dunston o meglio per il gioco per la palla Canesso di oggi forse mette meglio palla per terra c'ha forse anche qualche movimentino in più e in difesa però lì siamo buone due spanne indietro rispetto a è anche vero che rispetto a Dunston in difesa cioè no Dunston nella difesa sono come Gandini e i piani triennali e non fa proprio scala a sé giocasse in una squadra in cui gli possano dare 28 30 31 32 minuti di media partita questo sarebbe il miglior rimbalzista del prossimo campionato con il secondo che arriva terzo proprio come i tempi quando giocavano hanno sì che James Thomas nel nostro campionato uguale a Bologna non lo so nel senso che dipende alla fine come sarà la squadra dipende quanti minuti avrà di rotazione nel campionato italiano quindi boh però anche chi se ne frega c'è nel senso non è che a fine carriera vinci i Malcom di Leni d'oro se hai vinto un tot numero di trofei individuali anche improbabili no quindi da un giocatore del genere con un fisico del genere con un dinamismo con un'attività anche sul campo del genere mi aspetterei un impatto difensivo un pochino superiore ecco mettiamola così poi siccome per fermarlo spesso in attacco tocca menarlo se anche soltanto la percentuale ai liberi si riuscisse a portare ai 70% e allora lì cambierebbe proprio completamente in mondo se a Bologna nel ripieno dei tortellini riuscite a fargli ci trovare queste due cose qui rischiate di aver pescato uno dei migliori lunghi d'Europa però sono due margini di miglioramento non è detto che ce la faccia c'è un'esercizio giammar smith guardia classe 1987 36 anni nativo dell'illinois 191 cm per 84 kg non è stato scelto al draft nba del 2010 lunghissima carriera europea di primo livello Eurochallenge Eurohub Eurolega con Bamberg Limoges Junihaha mentre lo scorso anno in Turchia 14 punti 2 rimbalzi 3 assist il 39 da 3 e il 96% ai diri liberi con Perison esteticamente è Dwayne Woodward pelato smilzo no esteticamente ci interessa il giusto tecnicamente è più David Logan che buttalo via no volevo dire come giocatore quasi mai gli è stato chiesta questa cosa qui in carriera ma qualora a Reggio gli venisse chiesto di essere primo terminale offensivo bisogna vedere come verrà completata la squadra secondo me ce la può fare e anche bene vedendo no conoscendo tra l'altro non è che lo conosco solo io lo conosce anche soprattutto Priftis che già l'ha allenato perché memory di quello che è successo l'anno scorso con l'americani a Reggio Emilia quest'anno prima di Pigliatti se parli inglese non è che Tideano conosce praticamente devi essere stato il testimone di nozze se no non se ne fa di niente il tiro questo ha plurime stagioni in carriera con oltre il 40% da tre punti di media su tanti tentativi quasi 45 a volte tante stagioni una volta per sbaglio io mi ricordo una stagione ma 18 19 insomma una dell'ultima in realtà belle vecchie ma insomma una dell'ultima in realtà in cui balzò agli unori della cronaca a un certo punto perché rischiava di chiudere la stagione senza aver sbagliato neanche un tiro libero poi in realtà li sbagliò ma chiuse tipo al 98% questo ragazzi è un tiratore tiratore proprio tiratore vero ma non tirante sapete la differenza il tirante è quello colui il quale tira il tiratore oltre che tirare fa anche canestro ha 36 anni tendenti ai 37 il che per carità nel nostro campionato ci sono i Logan i Banks che dimostrano che il conte è giusto cioè bisogna vedere come ti tieni bisogna vedere anche quanta carriera usgurante hai avuto in precedenza bisogna vedere in che ruolo giochi Logan Banks Smith sono tutti in guardia per cui no questo potrebbe però ecco questo è un po' l'unico l'unico limite secondo me se due o tre cose girano bene questo qui ha ancora 3-4 anni potenzialmente anche nel nostro campionato ad alto livello alto livello poi vediamo il nostro è un paese dove non si va mai in pensione purtroppo per qualcuno specie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti